Lì abbiamo l'entrata della galleria di base, le sono 57 chilometri fino all'altra parte delle Alpi. La galleria del Gottardo è la più lunga del mondo, quella per la TAV sarebbe solo 100 metri di meno. È costata 11 miliardi ma ha spostato su binari il 70% delle merci. I tunnel qui in Svizzera sono all'ordine del giorno. In totale 57 il Gottardo, 33 è questo tunnel dell'Ulgeberg, più 15 sono oltre un centinaio di chilometri. Di tutti, di buchi nella montagna. Bellinzona è la prima fermata e qui sta sorgendo il nuovo complesso del centro biomedico. Una sede che ospiterà 250 ricercatori. Nascono nuovi quartieri e cresce il valore delle case. 20-25% di rivalutazione. Persino nel piccolo comune di Bodio dove non ci sono fermate si sta pensando a come trarre vantaggio dalle acque calde che fuoriescono dal tunnel. C'è un progettino per l'allevamento di storioni, avremo il caviale a ridosso delle Alpi. Grazie. 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 Grazie.